Buongiorno a tutti, una diversa show musica, di più di una soffilia spazza. Signora, grazie per me. Cosa c'è? Un mojito? Sì, mojito, vodka lemon, gin tonic, va bene. Signora, invece? Tutto a posto? Posso continuare? Così deve... Entonces vamos a vedere un spettacolo differente, toda la macchia che si può da ser con la luz. Signore e signori, a parte il gittone, cosa stai bevendo? Dimelo però, cosa c'hai? Cosa c'hai? La sabuca. Questa sera un spettacolo diverso dagli altri, perché andremo a vedere tutta la magia che si può fare con la luce. E quindi noi siamo pronti, siamo sempre pronti, we are always ready. Voi siete pronti? Are you ready? Sì! Prego signore. Are you ready? Evolution dancers in Magic of Light! Are you ready?